Sciolti gli ultimi nodi riguardanti la documentazione da presentare alla Lega Pro e completata l'iscrizione, adesso scatta l'ora del closing e all'orizzonte iniziano a profilarsi dei nomi di possibili acquirenti del Cavallino. Solamente poche ore fa era stato infatti lo stesso presidente Giorgio Lacava a dichiarare di avere due trattative in essere. Una di queste, quella che potrebbe essere la principale, risponde al nome di Felice Saladini, classe 1984, originario di La Mezzia Terme ma residente a Milano. Saladini nel 2010 ha fondato la Planet Group, azienda che nell'ultimo triennio ha registrato una crescita costante con un fatturato di oltre 20 milioni di euro ed un utile di 1,20 milioni. A maggio dello scorso anno, infine, la Planet Group si è unita al gruppo EQR, di cui Saladini è diventato presidente, una realtà specializzata nella vendita multicanale e nella gestione della relazione con la clientela. Saladini, inoltre, nel suo curriculum vanta anche altre esperienze sportive, come nel basket e ultima quella con la Vigor La Mezzia, società di eccellenza che ha rilevato a giugno unenne i due club che ne continuavano la tradizione, affidando la panchina a Massimo Morga. Accanto al nome dell'imprenditore di La Mezzia figurerebbe anche quello di Alessandro Gauci, già accostato tramite un altro gruppo all'Arezzo lo scorso gennaio. Il primo genito di Luciano Gauci, già amministratore unico della Galex ed amministratore azionista e presidente del Perugia, è infatti uno dei nomi caldi della trattativa, che per adesso però rimane tale. Se sarà la strada giusta comunque si saprà a breve, visto che le intenzioni di Giorgio Lacava sarebbero quelle di chiudere entro una settimana.